Si chiama CryptoLocker ed è un virus che circola sul web. Numerosi i casi avvenuti in Sicilia con aziende, professionisti e privati che hanno visto gravi danni alle loro attività. Ma come si presenta il virus? L'utente riceve sulla propria casella di post elettronica un messaggio che fornisce indicazioni su presunte spedizioni oppure un link o un allegato a nomi di istituti di credito, aziende o fornitori di servizi. Cliccando sul link viene iniettato il virus che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei computer, anche eventualmente quelli collegati in rete. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici che richiedono agli utenti per riaprire i file e rientrare in possesso dei propri documenti il pagamento di una somma di alcune centinaia di euro per ricevere via email un programma per la decriptazione. La polizia postale di Catania segnala che è importante non cedere al ricatto e raccomanda di tenere sempre aggiornato il software del proprio computer e munirsi di un buon antivirus, ma soprattutto fare attenzione alle mail che arrivano.